Successo interno per il procalcio d'Orsa Pienza di Lascaro che nella terza giornata del campionato Under 15 Elite, girone B supera per 2-1 la Lodigiani di Isabella con doppietta di pro, gol ospite da parte di Giuliani. Prima azione da gol per i padroni di casa, al quinto punizione da destra, colpo di testa da parte di Corso, Sfera che termina fuori. Al sedicesimo Lodigiani, pericolosa da destra, Simone Fiore entra in aria e viene steso. Calcio di rigore che Marciani neutralizza ad Andrea Fiore, compiendo una splendida parata. Rez pericolosi ancora al ventesimo, cross da sinistra e testa di Conti, para in due tempi, ancora Marciani. Pro calcio d'Orsa Pienza che al ventunesimo va via sulla destra, fallo di mano da parte di Rocci e penalty il secondo della giornata. Dal dischetto, Pro non sbaglia, 1-0 e vantaggio da parte del pro calcio d'Orsa Pienza. Al gol i padroni di casa, Lodigiani che reagisce con una lunga azione, manovrata, conclusione da parte di Mauro, ma punteggio che non cambia, 1-0 all'intervallo. Nella ripresa Lodigiani che si fa vedere dopo soli due minuti con Rufo, Marciani, bravo, para in due tempi. Poi punizione al sesto da parte di Conti, spera che termina a lato. Calcio di punizione, anche dall'altra parte al tredicesimo, ci mette una mano, testa grossa e svetta la minaccia. Indecisione difensiva invece che costa caro a Irezza, al ventisettesimo, con Sepe che ne approfitta in pieno e ben esteso per il direttore di gara e penalty. Dagli undici metri, testa grossa induisce, ma Pro ribadisce in rete, confezionando doppietta e 2-0. Finale con il tutto per tutto dei Reds, batti e ribatti in area di rigore, poi sbroglia Giuliani che fa 2-1, accorciando così le distanze. Non basta con il match che termina qui, vittoria importante per il pro calcio d'Orza Pienza, 2-1 sulla Lodigiani. Grazie.